Vuoi acquistare crediti di FIFA per farti la tua cazzo di squadra dei sogni? Vai su fifacredits.com, link in descrizione, tanto ormai non costano più niente. Buona visione! Buona ragazzi, qua è sempre e bentornati in questo nuovo video di FIFA 14. Un gran pack opening, stai aspettando solo voi. Anche questo appello stavo aspettando di essere tolto. Pronti ad andare? Allora, ragazzi, ascoltatemi bene. Nel negozio ci sono pacchetti speciali da 50.000 crediti. Ce ne sono tre e si possono trovare 12 giocatori, tutti oro e tutti i rari. Ne valerà la pena? Copriamolo. Primo pacchetto ragazzi, primo fottuto pacchetto. Dai, mi basta un Messi verde e mi accontento. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, mooooolè! Kagawa? Kagawa veramente? Cos'è, cosa merda? 50.000 crediti? Carta! Bello schifo! Seconda occasione del cazzo. E vedi di trovare qualcosa? Vedi di trovare qualcosa? La volta è la volta buona? La volta è buona? Sergio Busquets! Me lo caccio in TutQuest! Ma vabbè, quello come sta ragazzi? Bizarro, ancora gioca! Non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Già 100.000 crediti ai maiali, eh? Aspettiamo ad aprire il terzo da 50.000, andiamo ai pacchetti oro premium. Dove ci sono? 24 oggetti, tra cui 20 oro e 7 rari. 15.000 crediti, eh? Non deludetemi. Io voglio un giocatore verde, lo trovano tutti e lo voglio anch'io! Martins! Obama! Martins! Doppiore pure! Non è vero questa cosa, non può essere vera! Cioè, cazzo ne ha! Tutti trovano qualcosa, per forza! Possibile che io sia l'unico sfigato che usa tutti i casi che ha per niente! GILARDINO! Se guardate bene, si può notare la delusione all'interno della mia faccia. Non sembra vero, non sembra vero! Cioè, che cosa devo fare? Devo fare qualche rito? Devo fare un rito a voodoo? Devo mettermi in b... Aia! Miglio sul... Niente! E' vittura addirittura gli argento, trovo adesso! Eh, però lei non è male! Voste vanno fare un po' danza nella chioggia, vabbè! Ancora Kagawa! È mongolo! Balotelli non vale un cazzo! Deve essere un complotto, che non c'è altra spiegazione. Cioè se non è un complotto questa cosa Dittemi voi cosa lo è Avete mai visto che io trovo qualcosa in un cazzo di pacchetto? Mai! Llorente! Tutta roba inutile Di che squadra è questo? C'ha due dragoni Guardate che fa già! Ok dai Apriamo il terzo da 50.000 E l'ultimo che c'ha da 50.000 Quindi tutta la nostra fortuna è in questo dannato pacchetto del cazzo Dai che devo fare? Devo mettermi in via? Dai che ce la posso fare Dai! Chi è? Che è? Company! Sì ti ho Company va bene Company è buono Oscar è buono Bene 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 8.000 crediti me li sbatto sulla minchia Ancora lui Il mio terrore SRNA la malattia Si rimane in festa Beh pacchetti da 50.000 terminati Trovato un cazzo Rimangono 5 Di questi da 15.000 Dai 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 Maranocchia no! Luci! Bullies! Non ho scherzo Jill Ma non era quello di Dragon Ball Jill? Mia pazienza è finita Limit è stato ragionato Qui non si trova un cazzo di giocatore Giuro che spacco tutto Perché non è pensabile Che non trovo mai un cazzo Chi è lui? Un pacchetto dei mondiali L'evoluzione di Jill Jill Il cantante moreno Io non lo so come fa Beh ah non lo so Ho pisciato il battesimo da piccolo Quindi porto un male della vita Non so come sia possibile Che ho aperto il primo pacchetto In la mia vita Culo astronomico E non ho più trovato un cazzo di miei Paella Cos'è? Guillermo Actual Due Due Fottuti Pacchetti Devo fare Cosa devo fare? Devo tagliarmi Trovare qualcosa Dammi qualcosa Porca miseria ladra Allora Prima di aprire l'ultimo ragazzi Devo aprire una nuova a 7500 Non è possibile Cioè io voglio trovare Abbiamo ancora 40.000 Non è ancora detta l'ultima parola Fidatevi di me Gabi Non è possibile Neanche per il cazzo questa cosa Astori Un altro pacchetto di mondiali Non mi voglio Non lo voglio Ti prego Sanetti Si è ritirato Faffanculo Ultimo da 7500 Vero sì Vital Ti prego faccio qualcosa Ti prego faccio qualcosa Milito ma Che cazzo è? Ragazzi 15.000 erediti rimasti Non uno di più Ultimo pacchetto Se non troviamo niente Io spacco Spacco Famiglia Spacco bottigli Spacco tutto Se no Non troviamo niente Spacco Tutto Ma chi è questo? Ma che cazzo? Ma che è? Che sei? Warm Un pacchetto Fermi tu Un pacchetto oro gratis Non è finita qui Questo è Gandalf Senza barba Abbiamo un pacchetto gratis Alaba Alaba Tutto è riposto In te Tutto Pazzine Lui faccio una minchia lunga così E lui fa E ce l'ho così E lui guarda il sospettivo Andiamo ad aprire i due pacchetti mondiali va Cosa troveremo mai? Wow E però E però dai Non male Delusione Della storia The Blackmon Niente Neanche uno che supera il 71 Ragazzi Io veramente non so più che caspita dire Io e questo gioco andiamo di pari passo Insieme a braccetto con la sfiga Perché non è possibile Prossimo video ci facciamo una bella partita Per riprenderci un po' le forze Sperando di vincerla stavolta Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Se volete crediti Lo stai al link in descrizione Qua da sempre è tutto Boop